Tutto è iniziato qui, a Sidi Bouzid, sulla tomba di Mohamed Bouazizi, il giovane tunisino che si diede fuoco esasperato dai soprusi e dalla povertà causati dalle regime del presidente Ben Ali. La fiamma dell'indignazione si è poi propagata in Egitto, Libia, Yemen, Bahrain, Siria, portando migliaia di uomini e donne, giovani e anziani a occupare piazze e strade per chiedere libertà. Una cronaca che diventa storia e che la giornalista Imma Vitelli ha raccolto nel suo Tahrir, un viaggio alla scoperta delle rivoluzioni magrebine, quella egiziana in particolare. L'elemento che le accomuna tutte e che ha fatto sì che le cose andassero come sono andate, come stanno andando, è la mancanza di paura. Una dittatura per sopravvivere ha bisogno della collusione e della complicità del popolo. Fino a quando provale l'asservimento psicologico, una dittatura può continuare imperterrita a dominare sui propri cittadini. A un certo punto non c'era più. Gli si poteva far di tutto, gli si poteva uccidere, gli si poteva torturare e loro non se lo sarebbero andati. Non avrebbero fatto un passo indietro. È stato questo il cambiamento epocale, secondo me. Evento epocale, la primavera arabalo è stata anche per aver portato alla ribalta il grande potere della rete e dei social network. Durante i giorni epici della rivoluzione, per sapere davvero quello che stava succedendo, bisogna andare su Facebook, su Twitter o su YouTube per avere le notizie di prima mano, piuttosto che sulla CNN o su Al Jazeera, che invece faticosamente rincorreva. Vent'anni fa, con la prima guerra al golfo, quella del 1991, se vi ricordate, in Iraq, si sancì l'avvento della televisione 24 ore su 24 della CNN, il cui modello era la grande inviata Cristiana Manpour. Vent'anni dopo, invece, abbiamo l'avvento di cittadini testimoni sconosciuti, che con la loro telecamerina o con il loro cellulare filmano in diretta gli eventi che diventano immediatamente fatti, conosciuti in tutto il mondo. Con voce limpida e figlio anglosassone, le storie che Imma Vitelli ha raccolto al Cairo non possono non lasciare traccia nel lettore, come è successo pure alla Reporter, per tante ragioni. La bellezza dell'impegno, il coraggio della passione, è la verità del loro anelito, di persone che erano cresciute in un ambiente oppressivo e che alla fine hanno trovato dentro di sé le risorse e il coraggio per alzare la testa e dire noi siamo migliori di tutto questo.